Un solo punto a separare settima e ottava in classifica e tante statistiche a preannunciare una partita divertente tra Ponte Valleceppi e Dorvietana con i secondi che schierano dal primo minuto il nuovo vecchio acquisto La Cava. Iniziano meglio gli ospiti ma la prima occasione è del Ponte Valleceppi che al settimo con questo cross teso di Sinisi vedono male uscire Sganappa, ci pensa un difensore a metterci una pezza. Al tredicesimo errore di Bernardini in impostazione Rignicoli strappa il pallone cede su Marri che protegge e scarica sulla corrente Sinisi il suo sinistro però termina a lato. Al sedicesimo punizione di Bernardini, Nuccioni di testa, Guerri si supera con i piedi. Al ventunesimo lancio di Fanini per Marri sul filo del fuorigioco, Nuccioni interviene su Marri che tira comunque cadendo. Ci pensa Sganappa a mettere in calcio d'angolo, poi ci sono le proteste per un presunto calcio di rigore. Al trentunesimo tiro a giro di Saleppico, incertezza di Guerri, Locchi incredibilmente non riesce nel tap-in dai due passi. Al trentatesimo angolo battuto da Zagarella, la cava giganteggia in area di rigore e bagna il suo nuovo esordio con la maglia dell'Orvietana realizzando l'uno a zero. Trentasettesimo ci prova il Ponte Valle Ceppi con questa punizione di Fanini, svola, sganappa e mette in calcio d'angolo. Al quarantaquattresimo tocca di nuovo all'Orvietana, lancio perfetto di Bernardini dalla propria metacampo per Saleppico che poi batte Guerri in uscita con questo pallonetto e porta i suoi sul due a zero. Passiamo dunque alla ripresa dove è sempre l'Orvietana a partire molto forte. Al terzo minuto con cross di Locchi, respinta di Nofri, la cava ce l'ha sul piatto d'argento, prova e Guerri si supera con i piedi. Al sesto brutta palla persa da Fanini ed è ripartenza per l'Orvietana con Saleppico che mette a sedere a piazza. Prova il destro, ancora Guerri in calcio d'angolo. Dodicesimo, azione personale di Locchi che prova il filtrante. Il rimpallo finisce per liberare Cotigni all'interno dell'area di rigore. Il suo destro però non inquadra il bersaglio. Al sedicesimo si rivede il Ponte Valle Ceppi con D'Ambrosio che fa da sponda per Fanini. Il suo cross sul secondo pallo, la testa di Regnicoli ed è traversa. Al ventesimo azione alla mano in contropiede, stile reggbistico dell'Orvietana che con Saleppico cede a Locchi, il quale invece cede a sua volta per la corrente Bernardini. Anche il suo diagonale però non centra la porta. Cross di Sinisi al trentunesimo con Marri che riesce a lavorare il pallone e cedere a Regnicoli. Il suo tiro però viene deviato in calcio d'angolo. L'Orvietana che cala il ritmo nella finale ma va comunque vicino al gol con la cava. Salvo poi esporsi al Ponte Valle Ceppi che al quarantatresimo con questa punizione di Fanini battuta sul secondo palo trova l'inzuccata di Regnicoli che mette in porta e riapre la partita con il risultato di 2 a 1. Nel finale però è ancora l'Orvietana che un minuto più tardi con questo perfetto lancio di Avola mette in condizioni i moneti di segnare il 3 a 1 ma è ancora Guerri superlativo in uscita a metterci una pezza. Nel finale quindi è assedio del Ponte Valle Ceppi che però non riesce tuttavia a battere nuovamente Sganappa, perde l'imbattibilità interna e l'Orvietana riporta giustamente a casa i tre punti con un'ora di gioco da assoluta protagonista. Con Mr. Bruni avete rischiato di riacciuffarla nel finale con uno scatto d'orgoglio notevole però almeno per un'ora di gioco si è visto un Ponte Valle Ceppi molto impacciato soprattutto in casa dove invece avete una produzione offensiva notevole. Penso che l'analisi è giusta, a differenza di altre partite dove riusciamo ad esprimere qualità e gioco oggi non ci siamo riusciti per merito anche dell'avversario dell'Orvietana. Penso che sì, abbiamo avuto quell'episodio finale per poter pareggiare la partita ma bisogna essere onesti e nell'arco dei 90 minuti l'Orvietana ha fatto più di noi e ha meritato questo risultato. Noi da martedì analizzeremo gli errori che abbiamo commesso e quello che non è andato e cerchiamo di rialzare subito la testa e di preparare al meglio la prossima giornata. 13 anni dopo ci hai messo 33 minuti per tornare a segnare, certo c'è anche quello divorato nel finale. Ci ho messo 33 minuti e 70 per sbagliare anche il primo, no no, a parte tutto. Io ho fatto una scelta tra le corrette di cuore, anzi ringrazio pure le altre squadre che mi hanno chiamato perché fa sempre piacere dopo aver fatto anche male la prima parte del campionato. Però non so perché, sentivo questa scelta un po' più mia e quindi al di là di tutti gli altri aspetti era quella che ci tenevo a fare e fortunatamente è arrivato, come dici subito, anche forse la prima occasione al gol. Sono arrivate altre ma negli ultimi periodi ero un po' meno disabituato ad avere l'occasione di gol. Su uno è stato molto bravo il portiere, però a parte quello penso che l'abbiamo strameritata. Anzi, non meritavamo neanche forse per come si è comportata la difesa di prendere il 2-1. Forse quella, tra virgolette, è un po' colpa mia perché se la chiudevo almeno non la diventava neanche quella.